Undicesima puntata di Position 2 La serie che analizza la seconda posizione della classifica dei singoli più venduti in Italia C'è un boicottaggio ad opera della Fimi Che ci ha costretto a rimandare l'uscita di questa puntata per un sacco di tempo E non solo, ci hanno rubato le bombette Questa settimana, al secondo posto della classifica, c'è COETS Perché esulto? Pseudonimo di Silvano Albanese È stato primo in classifica tantissime settimane e giusto oggi è passato al secondo posto Come si intitola questo singolo? La musica non c'è COETS La musica non c'è Perché cominci così un pezzo? Ti proprio ti metti il bastone fra le chiave Le ruote, si dice tra le ruote Comunque non è detto che la musica non ci sia Potrebbe anche esserci Ascoltiamo questo brano C'è troppa luce dentro la stanza Questo caldo che avanza io non dormirò COETS si distingue perché è un po' cantautore e un po' rapper Una cosa importante di COETS da dire è che non è uno di quelli che sta con l'autotune in vista Analizziamo questo brano La minore Sol Fa Do Un ragionetto di questo brano molto semplice Scarno e funzionale Per dare risalto alla cosa veramente importante Cioè il testo E scusa se non parlo abbastanza Ma una scuola di danza nello stomaco E balla senza musica con te Lo stomaco immagino O la scuola di danza Sei bella che la musica non c'è Però se la tua fidanzata Fa in modo di rendere la musica una cosa superflua Non è una giustificazione Lei si può sentire in colpa per questa cosa E' il contrario di Gino Paoli Che dice quando sei qui con me Suona un'armonica no? E invece no Qui succede che la musica scompare E non è facile trovarsi mai Oh mai Oh mai COETS ci piace Ci piace tantissimo Ci piace perché E' efficace E' scarno Semplice Si capisce quello che dice Non c'è l'autotune Non fa trap Il testo è un manifesto della semplicità Del romanticismo Una canzone d'amore aperta Dolce Ti lascia anche questa sorta di malinconia Non c'è bisogno di parlare di schifo Di disagio Di puttane Di soldi E le persone se ne accorgono E lo amano E noi anche lo amiamo Anche noi lo amiamo? Si Sicuro Non ti vedo convinto Federico Bisogna per forza fare una canzone semplice Per poter piacere a un pubblico vasto? Dobbiamo capire se qui si può dare di più Perché dentro di noi Si può usare di più Senza essere eroi Io sogno Una canzone di quelle che ascolti una volta soltanto E poi non l'ascolti più Perché ti manda al manicomio Ti fa male la pancia Ti vengono le verruche Ti vengono le pustole Una musica che può essere ascoltata tante volte di fila Non mi sta simpatica E quindi anche Coez non ti sta simpatico? E' un po' come dire Non sono razzista ma Coez mi sta simpatico ma No non è che perché è troppo semplice Però Non è che siamo invidiosi eh Però Però Ci fa invidia però La fine è l'ho fatto bene Però Però E' sincero però Vabbè troppi però Però Su una cosa Silvano Siamo chiaramente d'accordo con te Perché in questa canzone La musica non c'è E' un po' come dire E' un po' come dire